salve a tutti buon pomeriggio qui Michele lui è Matteo un mio carissimo amico con il quale ho suonato tantissimi anni ed è proprio mio amico di infanzia quindi ci conosciamo da praticamente tutta la vita e siamo qui oggi per ammirare un bellissimo tramonto di metà settembre proprio siamo qui anche per vedere soprattutto un bellissimo fenomeno che il sole è bello sì in questo periodo il sole ha tristurato veramente uno spettacolo al tramonto siamo molto vicini al parco ducale una bellissima struttura di urbani che vi ho fatto vedere in uno dei primi video ed eccoci qua siamo con un tele in mezzo a un prato gigantesco quindi Matti ci godiamo lo spettacolo insomma ci apprezziamo un po' magari che quest'estate non abbiamo preso molto poca roba comunque se non avete avuto occasione di vederlo vi auguro proprio di stendere un telo verso quest'ora di tramonto e godervi questo spettacolo bellissimo è sempre bello vedere soprattutto in questo periodo il sole noi siamo tutti sempre bello durante gli ultimi anni è già bello bello ora mostrerò in fronte a una telecamera frontale un piccolo take-labs ora mostrerò in fronte alla telecamera frontale un piccolo take-labs vero ecco qua visto il tramonto in timelapse e niente se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale come sempre lasciate un like e un commento guardate il tramonto con noi e ci sentiamo al prossimo racconto bar al prossimo video qui Michele e Matteo vi ringrazio e ci si vede alla prossima alla prossima ciao ciao